Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi finiamo il novembre d'attualità e devo dire che questo episodio è molto più attuale di quel che possa sembrare, nel senso che oggi vi andrò a parlare di Nightmare Before Christmas e di come, secondo me, è il film perfetto da guardare a novembre. Questo è un po' un mio sclero. Già che ci sono, vi parlerò anche delle altre produzioni d'animazione di Tim Burton. Come al solito, vi ricordo che io scrivo anche per il sito di Senza Barcode e questa settimana troverete un articolo di approfondimento appunto sulla storia di Tim Burton e il suo rapporto con l'animazione. Allora, parto col spiegarvi perché, secondo me, Nightmare Before Christmas è un film da guardare a novembre. Allora, film famosissimo, penso che sia oramai diventato un fenomeno di culto, film rilasciato verso la fine degli anni 90, distribuito da Disney, diretto da Harry Selvick, uno delle figure poi più importanti di Laika Entertainment, compagnia di animazione di stop motion statunitense. Harry Selvick che poi ha diretto anche Coraline alla Porta Magica, un bellissimo film in stop motion che, se non l'avete visto, vi consiglio di guardare. Film molto spooky, adatto per l'atmosfera di Halloween. Nightmare Before Christmas poi, basato su delle poesie e sui personaggi disegnati dalla mente di Tim Burton, che in quel preciso periodo storico era, secondo me, al picco, al suo picco creativo, nel senso che aveva appena finito i lavori su Beetlejuice e Edward Manny di Forbice, era in procinto a lavorare su prodotti come il mistero di Sleepy Hollow, aveva lavorato ai due film su Batman, quindi insomma era veramente il periodo migliore di Tim Burton. Però ricordiamoci sempre che Tim Burton, oltre ad essere un regista di film live action con persone in carne ed ossa, la sua esperienza l'ha fatta in Disney, nel senso che Tim Burton ha studiato al Callouts, una delle scuole d'animazioni principali di Disney, e ha studiato insieme ad alcune figure portanti dell'animazione futura, come John Lasseter e Pete Docter e Brad Bird. Infatti i suoi inizi sono proprio con l'animazione, col suo cortometraggio Vincent, narrato da Vincent Price, che era una figura abbastanza storica del cinema horror d'epoca, che fa anche un cameo in thriller, insomma fa il narratore della storia in thriller di Michael Jackson. E quindi il primo prodotto d'animazione di Tim Burton ufficiale, diciamo, è un film non diretto da lui, ossia Nightmare Before Christmas, un film che tecnicamente all'epoca era spaventoso, perché la stop motion era un genere molto di micchi, era un genere più che altro era legato a prodotti televisivi di bassa lega, e Nightmare Before Christmas ha dato quel lancio che poi ha portato all'Hardman, quindi a Wallace e Gromit, che già all'epoca erano molto presenti nell'ambito della stop motion dell'animazione, ma soprattutto per cortometraggi e prodotti televisivi. Invece dopo Nightmare Before Christmas Wallace e Gromit sono state delle icone, non solo per l'Hardman Animation, ma anche per l'Inghilterra. È uscito un film che ha vinto l'Oscar, poi appunto è nata la Laika, appunto studio dietro a Coraline e a Cubo e la spada magica, Tim Burton ha continuato a produrre film in stop motion, l'Hardman ha creato opere come Galline in fuga, quindi diciamo che questo film, verso la fine degli anni 90, è un film molto particolare perché era un film gotico, era un film poco disneyano, diciamo, anche se presentava tutti i classici elementi come il musical, il personaggio che ha una sorta di redenzione, era un film comunque diverso dal classici canoni Disney, che allo stesso tempo ha segnato la storia dell'animazione. Una pellicola che appunto, come ho detto, è tecnicamente spaventosa, basti pensare soltanto alla scena in cui Jack Skeleton guarda il pomello della porta con il riflesso che hanno spiegato che ci hanno messo mesi a lavorare soltanto su quell'inquadratura. Un film che secondo me va visto a novembre, e adesso arriva la mia fisima, perché alcuni lo considerano un film di Halloween, visto che il protagonista è uno scheletro, la terra di ambientazione principale è quella di Halloween, eccetera. Altri invece lo considerano un film natalizio, visto che la morale finale è più incentrata sulla fratellanza, solo volersi bene, solo accettarsi, come sono tutte a fine morali che vengono di solito discusse ad Halloween. Quindi ho deciso di prenderla via di mezzo, è un film che vi guardate a novembre, così avete i postumi dal 31 di ottobre e vi preparate un po' all'atmosfera natalizia di dicembre. Anzi, se lo guardate soprattutto in questi giorni, quindi 30 ottobre, ultimi giorni di novembre, siete a posto. Disabilità e benessere, a cura di Emanuela Fatilli, per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. Film che in generale, vi dico la mia opinione, è un film che ho apprezzato molto. È un film che è appunto molto strano dai canoni Disney. La prima volta che l'ho visto, ma anche più volte, dicevo, mi fa molto strano che questo film sia stato effettivamente prodotto e distribuito da Disney, con questo protagonista un po' ingenuo, al limite un po' della stupidità, che però ci si può ritrovare, anche perché lui alla fine è un personaggio alla scoperta di se stesso. È un film che forse si è visto a vent'anni, fa ancora più effetto, perché sia in quel periodo in cui ci si conosce, ci si scopre e si vuole capire dove si vuole arrivare, in un periodo in cui si vive la solita monotonia, come Jack che vive sempre la solita monotonia di organizzare Halloween, eccetera, e scopre qualcosa di nuovo. È come un bambino è curioso, ma allo stesso tempo non sa se è giusto o meno. Sono cose che identificano Nightmare for Christmas come un perfetto film per famiglie, perché fa pensare al ragazzino, che è giusto scoprire cose nuove ed è giusto approcciarsi a cose nuove e al diverso, ma allo stesso tempo colpisce anche il teenager, il ventenne, che insomma mi fa capire che effettivamente molti... che ci sono i momenti in cui si perde un attimo la bussola e si è un po' scombussolati dal nuovo. È un film molto molto bello, con delle canzoni splendide, secondo me, sia in originale che in italiano, cantate benissimo da Renato Zero. Dopo Nightmare for Christmas, Tim Burton lavora sulla sposa cadavere. Secondo me l'ultimo grande film di Tim Burton, o uno degli ultimi diciamo, nel senso che questo film è stato diretto da lui invece, un film dove Johnny Depp, secondo me, è incredibile, è soltanto il fatto che il design del personaggio ricalca il classico stile di Tim Burton, quindi molto alto, pallido, con queste occhiaie estremamente pronunciate, ma che abbia i stessi lineamenti, la capigliatura di Johnny Depp è una cosa che mi è piaciuta molto. È un film che secondo me il suo unico difetto è il fatto che duri troppo poco. Io avrei voluto che durasse molto di più, che venisse ancora di più esplorato il mondo dell'altilà, le storie dei morti, il rapporto con i genitori. Poi è molto interessante come venga anche trattata tutta la questione del matrimonio, che cos'è l'amore, eccetera. Sono tutte tematiche molto adulte anche. Per essere un film per bambini ci sono tante tematiche adulte, che secondo me Barton sviscerà bene, ma secondo me se avessi avuto ancora, avessi avuto più tempo a disposizione a livello di screen time, di durata, sarebbe stato meglio. È un film che secondo me su alcune cose va un po' troppo veloci. Ovvi rimandi in Nightmare Before Christmas, in primis il cane, ovviamente costanti nei film di animazione di Tim Burton è sempre il cane, in Nightmare Before Christmas abbiamo Zero, in La sposa cadavere abbiamo il cane fatto di ossa, e in Frank Winnie è proprio il protagonista, ma adesso ci arriviamo. Finché oltretutto ha segnato, come Nightmare Before Christmas all'epoca, segnò una pietra miliare della storia di animazione perché lanciò nel mercato mainstream la stop motion, La sposa cadavere ha segnato l'industria di animazione perché ha lanciato lo studio Laika, il primo film della Laika Entertainment. Un film che tecnicamente anche ha settato nuovi standard per l'animazione, visto che non si usavano dei pupazzi con delle viti, quindi non bisognava più creare 3.000 modelli per un personaggio come Nightmare Before Christmas, creare varie versioni della testa di Jack, ognuna con un'apertura della bocca diversa. Adesso con delle viti era molto più facile, molto più economico. E infine è incredibile la scena al bar, nell'aldilà, con tutti questi verdi, viola, rosa, quest'atmosfera molto creepy, che ricorda anche alcuni cortometraggi della Disney degli anni 30. Insomma, diciamo che La sposa cadavere è un film che rappresenta molto il lato più creepy, appunto, di Tim Burton. Infine, passiamo a Frank Winnie. Se La sposa cadavere era uno degli ultimi film interessanti di Tim Burton, ecco, Frank Winnie proprio segna la fine, secondo me, a livello creativo di Tim Burton. Non che gli ultimi film siano brutti, cioè, è che semplicemente non avevano più quella carica interessante, peculiare, delle sue prime opere. Sono anche tutto sommato abbastanza banali. Big Eyes è un film abbastanza mediocre. Stessa cosa per Dark Shadows, Miss Peregrine. E anche il remake di Dumbo, che comunque tutto sommato, salvo nel... si è messo in paragone con gli altri remake di film di animazione Disney, ma che, rispetto alla filmografia di Tim Burton, non ha niente da dire. Frank Winnie, che come Nightmare for Christmas, è un film abbastanza atipico per gli standard Disney. Un film in bianco e nero, in stop motion, un film cupo, un film che riprende palesemente i primi monster movie, quindi Dracula, Frankenstein, eccetera. Non a caso, proprio, Frankenstein è la principale ispirazione di questo film, è un film dove si parla di morte, che non è un argomento nuovo a Disney, ma la morte, la resurrezione, come si percepisce il lutto. Cioè, tutti argomenti abbastanza cupi, abbastanza tetri, abbastanza maturi. Ecco, se devo trovare una costante in tutti e tre i film in stop motion di Tim Burton, anche se appunto Nightmare for Christmas non è proprio suo, è la questione, questa questione dei temi più adulti, andare incontro anche i più grandi. Poi, ovvio, anche le questioni più del cupo, del gotico, le classiche spirali, eccetera. Frank Winnie, che secondo me è un film che è proprio rappresentato a Tim Burton, perché c'è tutto. C'è l'animazione, c'è, ci sono i relitti, gli emarginati della società, c'è l'horror, c'è l'amore per il gotico, c'è il suo classico stile di disegno. Secondo me Frank Winnie è proprio l'apice della sua carriera, è proprio Tim Burton al 100%. Se nella Sposa Cadavere abbiamo visto un 70% a causa di un tempo, una durata limitata, Frank Winnie secondo me è proprio l'apice. È la perfetta rappresentazione dello stile di Burton, infatti non a caso i film che sono arrivati dopo peccavano proprio di originalità e di stile. Quindi quali sono i film da guardare a novembre? Ovviamente i tre film in stop motion di Tim Burton, Nightmare for Christmas che, ripeto, non l'ha diretto lui, lui soltanto ha dato degli input a livello di storia, La Sposa Cadavere e Frank Winnie. I film perfetti per novembre, perché hanno quel feeling un po' più da, un po' da Halloween, soprattutto La Sposa Cadavere e Frank Winnie, ma che comunque tengono quelle morali un po' natalizie, l'amore per il prossimo, la fratellanza, eccetera. Detto questo io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti!